Poco dopo la mezzanotte di ieri in via Giulini a Fano davanti al civico numero 10 un'auto andata a fuoco e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare le fiamme. Si tratta di una vecchia Fiat 1 di color grigio di proprietà di una famiglia che risiede nelle vilette della complesso residenziale che da oltre un anno era stata parcheggiata lì dai proprietari in attesa di essere demolita. Per questo e per il fatto che la batteria fosse staccata quindi difficile ipotezzare un cortocircuito e per il fatto che l'auto non veniva messa in moto da diverso tempo che l'ipotesi iniziale avanzata sulle cause del rogo è quella dell'incendio per cause dolose. Al momento dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco l'auto era completamente avvolta dalle fiamme ed è andata totalmente distrutta ma l'intervento tempestivo degli uomini della caserma di Fano ha evitato danni peggiori dato che le fiamme si stavano estendendo anche alla folta vegetazione a ridosso dell'auto. I residenti riferiscono che i proprietari avevano da diverso tempo fermato lì l'auto in un punto che tra l'altro non recava alcun disturbo perché ormai inutilizzata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Fano.